Spirito di collaborazione fra Università di Salerno e realtà istituzionali locali è quanto emerso dall'incontro voluto dal Comune di Aquara e che ha visto la presenza, nella cittadina degli Alburni, del Rettore dell'Università di Salerno Aurelio Tommasetti, che ha avuto modo di confrontarsi con decine di sindaci degli Alburni e della Valle del Calore sui temi dello spopolamento, ma anche dell'opportunità di formazione e di professionalizzazione dei ragazzi e della collaborazione con i enti e le imprese locali. Si parla innanzitutto dell'Università, di quello che sta facendo, di che prospettiva sta dando ai propri giovani e ai giovani del nostro territorio. E ovviamente, come dice lei, individua anche quella che può essere la strada, l'unica strada possibile per uscire da questa situazione di difficoltà in cui versa, che non è solo proprio delle aree interne, perché quando si parla di spopolamento uno pensa immediatamente all'area interna, ma in realtà non è così. Noi oggi assistiamo, per esempio, anche su un piano diverso, ad un processo di spopolamento che è ancora più preoccupante. Il dato Banca Italia ci dice che dal 2006 al 2016, ben 54 mila giovani laureati nelle discipline STEM, c'è le discipline varie, tra cui anche quelle in scienze, tecnologie, ingegneria, sono andate via dalla Campania e sono andate altrove. Quindi una perdita secca per il nostro territorio. Quindi a spopolamento riguarda anche aree assolutamente urbane. Noi che cosa possiamo fare? Innanzitutto fare bene, come Università, la nostra attività, quindi con una ricerca di qualità, una didattica al passo con i tempi, incentrata sul ruolo degli studenti, sulle loro aspettative, e allo stesso tempo anche tenendo conto delle vocazioni che abbiamo di tipo territoriale. Non è un caso che io da rettore ho voluto, oggi abbiamo 78 corsi di studio, eppure abbiamo introdotto corsi di studi strategici, come è stata appunto Agraria. Quest'anno abbiamo fatto l'adriennale, quest'anno lanceremo dall'anno prossimo anche la magistrale, abbiamo fatto scienze motore, abbiamo completato medicina. Insomma tutte iniziative che dal canto nostro tentano quotidianamente a qualificare quella che è la nostra offerta culturale. Cioè noi riguardiamo i giovani. Dobbiamo dire che è la prima volta di un rettore ad Aquara. In questi sei mesi è stata anche la prima volta di presidente di Confindustria ad Aquara quando è venuta Andrea Prete, è stata la prima volta di un'associazione di categoria cooperativa, l'AGC, un'associazione nazionale con il suo presidente Brenno Begani che è venuto ad Aquara a fare un convegno, è stata la prima volta del Giffone Film Festival ad Aquara, è venuto Gubitosi e sabato prossimo sarà la prima volta della RAI ad Aquara. Quindi tutte queste prime volte non è che ci cambiano la vita, però ci fanno capire che noi dobbiamo avere, possiamo e dobbiamo avere più autostima, che è la prima cosa, perché qua se cominciamo a dire vabbè ma non si può fare niente, siamo finiti, la lamentosità è basta. Noi quello che possiamo fare è quello che stiamo facendo, stiamo creando con queste iniziative le fondazioni di questa casa che deve crescere. Quando noi avremmo messo su le fondazioni, avremmo creato le fondamenta di questa cosa, di questa comunità che si era un po' abbandonata, con queste iniziative di carattere più sociale, più umanistico, poi su questo possiamo costruire qualunque cosa.